Sicuramente l'importanza di questo libro parte da me, per me, l'ho fatto per me, voi direte in che senso? Perché io ho una vita talmente frenetica, spiritualmente frenetica, che a volte ho bisogno di fermarmi un attimo e vedere tutte le cose belle che la vita mi ha riservato e quindi scriverle è un po' come un mio diario, e poi è un diario fatto di incontri di persone che ho incontrato nei vari luoghi dove il Signore mi ha mandato, come le carceri, gli ospedali, il mondo della musica, ecco, però è così, è un regalo che ho fatto a me e poi chiaramente faccio agli altri, proprio per non dimenticare, a volte siamo un po' smemorati e ci dimentichiamo le cose belle della vita che abbiamo ricevuto lungo l'arco della nostra vita. Un regalo che fai anche agli altri perché lo ricordiamo che i Recavati andranno a finanziare insomma il progetto proprio di Radio Fra le Notte all'ospedale Gaslini, ma senti da Roberto, partendo da quel bambino che sognava di essere un Ultras, il capo Ultras del Genua, passando per il tuo passato di DJ e poi sei diventato prete. E poi ho sentito forte la chiamata a fare il tifo per qualcuno che davvero onorava non solo la maglia oppure regalava un pezzo fantastico, una ballata fantastica, ma molto di più, la propria vita per me e per tutti noi quindi diventare un Ultras di Dio, un DJ di Dio, ecco, questo è che faccia parte del mio percorso. Ecco, che cosa, o meglio, come ti è venuta l'idea a un certo punto di buttarti sui social e in particolare su TikTok? Diciamo sei amatissimo, lo sappiamo dai giovani, ma in tutta Italia, non solo insomma a Genova e Liguria, parliamo di mezzo milione mi sembra, no? Su TikTok. Sì, sì, io penso che c'è un proverbo che dice l'occasione fa l'uomo, e sappiamo, ecco, io penso che l'occasione possa fare anche l'uomo santo, nel senso che ci sono tante occasioni nelle quali fiutare la possibilità di un bene, di un bene per gli altri. E io ho sentito appunto lì, forte, nei social, la possibilità di trasmettere il messaggio nel quale io credo e che mi ha fatto tanto bene, che è una medicina per il cuore e per l'anima, che è la fede, e ho capito che lì era un luogo dove si poteva seminare, si potevano incontrare tanti ragazzi che magari sono lontani dalla chiesa, dalla fede, me l'ho percepito e quindi ecco, l'occasione, è stata un'occasione, non potevo lasciarmi la perdita, è come un passaggio sulla riga di porta. Sedi, e come ti vengono le idee? Cioè, chiedi anche qualche aiutino, diciamo, ai tuoi ragazzi, ai tuoi chiedichetti? Sicuramente loro sono protagonisti in questo viaggio, ma proprio perché l'entusiasmo dei ragazzi, dei piccoli, comunque colpisce sempre, anche quando vado in giro a benedire le case, insomma. E questo mi lascia ispirare molto dai giovani, dai ragazzi, dai loro trend, da quello che loro ascoltano, da quello che loro sentono, perché è proprio parlare il loro linguaggio questo, ed è importante perché se non parliamo il loro linguaggio è difficile che ci capiscano. Ecco, questo è il punto, no? Parlare il loro linguaggio. Qualcuno potrebbe storciare un po' il naso e dire, vabbè, insomma, con tutte le cose che c'è da fare un prete, adesso si butta pure su TikTok, si concentra su questo. In realtà, tu racconti anche come, non si tratta solo di mettere un cuoricino, un like, no? Ma le persone ti iscrivono anche in privato, cercano un confronto. Sì, cercano un confronto con tematiche profonde, personali, e dall'altra parte anche a volte davvero un gioco di sponda, cioè un video che fa sorridere può riaprire una porticina. E noi non dobbiamo, ecco, guardare i macro risultati, certo, le mie non sono lezioni di teologia, non sono predicazioni da convertire popoli, ma anche solo un ragazzo, un giovane, un adulto, al quale strappi un sorriso e gli dici, ah, ma forse la Chiesa non è solo come la presentano a volte. Cioè, già questo è un gol. Io ragiono così, ragiono quei piccoli punticini che fanno una classifica. Questo vale un video, ecco, un video vale davvero conquistare un'anima. Quindi secondo te, diciamo, la chiave per parlare, per, diciamo così, far fermare un attimo i più giovani e i ragazzi, qual è oggi? Credo che sia ascoltarli e ascoltarli senza giudicarli, perché siamo capaci magari a giudicare anche semplicemente la musica che ascolta un ragazzo, quando magari attraverso quella musica quel ragazzo ci dice qualcosa che non ci direbbe con le sue parole. Quindi il dolore che ha dentro, la rabbia, la voglia che ha dentro di conquistare il mondo, di conquistare la propria libertà, ascoltarli, ecco, senza essere, io dico sempre, schizzinose. A volte noi adulti siamo un po' schizzinosi, anche noi religiosi a volte. Sì, però, eh, ma c'è quello, eh, ma c'è quello. Io penso che un medico, quando deve salvare una vita, non sta a guardare i dettagli, no? Assolutamente. Senti, il video a cui tu sei più, diciamo così, legato o meglio, forse è quello che ti ha fatto rendere conto che è riuscito un po' dai confini di Genova e della Liguria. Non so quando è che te ne sei accorto di essere diventato una star su TikTok. Ma, insomma, diciamo che io poi cerco sempre di... Di volare basso! Cioè, quello sempre, però poi c'è parte il mio DNA, quindi non c'è pericolo, non c'è pericolo. Però sicuramente quello che, quando siamo andati nello stadio, a Amarassia, mi ha fatto quel video di quel gol sotto la gradinata. Sicuramente è un po' un mio sogno, ecco, anche se può avvenire solo su TikTok. Stradinario! Grazie, grazie. Adoro Roberto Fischer, intanto stiamo vedendo proprio la copertina del tuo libro, Vita spiricolata. L'hai scelto così, velocemente, conclusione? Cioè, ce l'avevi lì? Oppure ci hai un po' ragionato? No, 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 mi è venuta spontanea perché, dico, chiamarlo così perché...